Ciao a tutti, io sono Mitenaglia e mi ultimo video. Come vedete dal titolo oggi aprirò questo nuovo di Pasqua, ma prima di cominciare come sempre SIGLA! Qui ho il coltino da mano, ho il totale presso 8,99 euro, pensavo di più, meglio pagato di me, e sono 350 grammi di uovo, ho preso questo a cioccolato bianco e mandorle, volevo prendere quello alle nocciole che si vede sull'altro cosa, ma c'era questo, quindi ho preso questo. Apriamo! Raccomando, mettete like tutto il video e scrivetevi! Se no, con il mio di Pasqua, niente nuova per voi! Per fortuna ho le forbici, meglio queste le taglio, questo pezzettino qua, che dite? sono fatta una fila, eh! Sì! Vabbè! Raffa! P coverediva! Acqua di verde! Prendito! Compete! E che ragazzo! Sì! La ragazzoatura! mi sta togliendo dalle mani ecco l'uovo come apriamolo? l'ho fatta, l'ho fatta in apriamolo, andiamo alla sorpresa, la sottuna con le forbici, un bracciale con il cuorecino, eccolo, eccolo qua, la sanziamo un pezzettino, un altro, poi l'acqua, che devo mettere sotto il frigo, che devo capire? Questo uovo è promosso. Questo video termina qui, se il video vi è piaciuto mettete un like, richiedetevi al canale e se la vostra vita è grigia sorridete perché avete vita sola. Ciao, alla prossima!